AELAS 48 una barca costruita a Taiwan progettata dall'inglese Bill Dixon commercializzata soprattutto in America fa parte di una serie di barche dedicate alle grandi forse grandissime navigazioni questo vuol dire che stanno dentro la tradizione di dislocamenti piuttosto pesanti impianti importanti solidissimi pozzetti centrali o comunque distribuzioni che consentono una grande abitabilità a bordo pesa 20 tonnellate lunga 48 piedi questo vi dà un'idea delle misure ad alcuni navigatori oceanici in realtà il peso piace non vogliono andare in giro per il mondo a prendere burrasche con gli ultraleggeri non tutti sono d'accordo ovviamente ci sono famiglie e famiglie di navigatori a ciascuno il suo mare di sicuro con questa barca si può andare ovunque la lunghezza fuori tutto è di 14 metri e 63 quella al galleggiamento di 12 metri 80 larghezza 4 e 42 motore yanmar da 75 cavalli serbatoio dell'acqua di 450 litri immersione un metro e 98 a prua vele per navigare in ogni condizione la trinchetta autovirante per levi weather e un fiocco in testa d'albero azionato da un avvolgitore elettrico una barca così classica può sembrare un po un controsenso la randa avvolgibile eppure italia hanno fatto grandi progressi rispetto a quelli di qualche anno fa e le prestazioni non calano troppo aumenta invece tantissimo la sicurezza dal pozzetto ben protetti si può manovrare particolari della tradizione un caro vecchio dorade che prende il nome dalla barca di holl in stefans appunto dorade su cui lui per la prima volta sperimentò queste cassette per portare aria all'interno della barca gli interni sono quelli tipici di una barca a pozzetto centrale con la grande cabina armatoriale di poppa che si raggiunge o passando attraverso la cucina a corridoio o attraverso il bagno non sempre queste barche hanno la doppia porta del bagno per una doppia circolazione questa ce l'ha e la troviamo comoda a prua una cabina a letti sovrapposti un'altra cabina matrimoniale e un bagno la cucina a corridoio ha i suoi vantaggi il baricentro e basso ci si può reggere in caso di mare mosso una barca blue water che ha l'ambizione di navigare a lungo a tanto posto per le provviste qui due frigo o freezer sono ovviamente modulabili come tutti i componenti moderni con le porte verticali ed ecco la cabina di poppa il luogo preferito dall'armatore che sceglie molto spesso questa configurazione con il pozzetto centrale proprio per avere questo spazio così grande e così ampio vantaggi sono anche di stare in una cabina che si muove un po meno rispetto a quelli di prua e di avere una vista anche verso poppa che non è male soprattutto se si dorme in rada è una barca classica negli interni nei legni nelle finiture per chi cerca la tradizione alle risposte giuste come questo bel tavolo da carteggio quando si dice che la qualità si vede nei dettagli guardate il pannello elettrico che cura dimostra nei collegamenti ed ecco un'altra delle caratteristiche delle barche a pozzetto centrale la possibilità di avere una vera sala macchine sotto il pozzetto i vantaggi sono quelli di avere tutti gli impianti insieme quindi ispezionabili e talvolta di poter aprire il fondo del pozzetto e sbarcare il motore una dote che nessuno spera di voler sperimentare ma che qualche volta purtroppo serve i serbatoi sono sotto il pozzetto in questo modo il baricentro è più basso e ci sono meno variazioni di assetto soprattutto laterali quando si svuotano ed ecco un'altra delle esigenze assolte da una barca atlantica quasi 1500 litri di gasolio questi sono i flauti per la distribuzione del carburante questa barca è montato una elica brantona tre pale abbiamo raggiunto e superato in nove nodi 9 1 9 2 la velocità massima stiamo navigando nella rada di miami navigare così vicini a downtown al centro in molte città italiane è proibito qui è bellissimo come navigano queste barche con un dislocamento importante hanno bisogno di un po di superficie velica di solito accelerano un po meno delle barche leggere che siamo abituati ad utilizzare ma una volta sulla loro rotta sono veramente di soddisfazione hanno una certa inerzia passano l'onda senza troppa fatica meglio lo danno quando si naviga di bolina con vento medio forte e anche magari un po di mare contro è un po navigare antico sì lo è però questo vuol dire avere una barca che ha stabilità di rotta che risponde al timone che può navigare con il pilota automatico per lungo tempo può sembrarvi piccolo il pozzetto e in effetti un pochino lo è però dovete tenere presente che questa non è una barca disegnata e voluta per essere affollata è una barca da godere in due quattro persone forse sei e allora qui ci stanno tutte ecco qua il posto del capitano voi ci scherzate su su questi seggiolini ma qui io vedo assolutamente bene davanti sono comodo posso avere in mano il telecomando del pilota automatico quando si naviga in trasferimento e sta una bellezza